Ancora forti disagi per l'abbontante nevicata che si sta battendo in Alta Erpinia. Particolari disagi si sono verificati nei comuni più esposti lungo le arterie stradali, ex 303 nei tratti che l'ospedale Criscuoli portano nei comuni di San D'Angelo, Guardia e Bisaccia. Le forze dell'ordine, intanto, invitano gli automobilisti ad astenersi dal mettersi in viaggio, se non per casi di estrema necessità. Nonostante gli sforzi dai mezzi dell'ANAS e della provincia di Avellino, le principali arterie artirpine restano imbiancate da uno spesso strato di coltre bianca che, essendosi ghiacciata, provoca disagi. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche su tutto il territorio, a causa di alberi che sono caduti e appesantiti dalla neve. In prima linea, anche le forze dell'ordine, numerosi gli interventi di polizie, carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, che insieme ai volontari della Croce Rossa, della Misericordia e dell'ANAS stanno portando assistenza alle popolazioni in molti comuni. Continuano, intanto, in alcuni centri, i disagi delle strade interpoderali e statali di numerosi comuni come Sant'Angelo, Guardia, Montella, Nusco e Lioni. Siamo in una contrada rurale di Lioni, una delle zone più esposte dalle bufere di neve. Potete vedere la strada, le condizioni del manto stradale, totalmente ricoperte dal ghiaccio e dalla neve. Questa è la condizione dell'Ofantina bis. Siamo nel tratto di strada tra l'intersezione che collega l'Ofantina al Comune di Lioni e, alla mia destra, l'area industriale di Nusco. I sindaci alti irpini, attraverso i centri operativi comunali, chiedono aiuti anche alle autorità regionali e nazionali, affinché in Irpinia possano arrivare uomini e mezzi. Anche il sindaco di Nusco, Giuseppe De Mita, a nome dei colleghi, ha rimarcato l'esigenza di avere uomini e mezzi della protezione civile regionale e nazionale, oltre a chiedere l'intervento dell'esercito. Dopo le nostre sollecitazioni di ieri, finalmente è stata liberata la pista per l'eli superficie presso l'ospedale Criscuoli, anche se è difficile capire in queste condizioni in che maniera possa atterrare un'eliambulanza. In quasi tutti i paesi, dunque, i mezzi impegnati per lo spazzamento della neve non trovano più spazi idoni per il deposito della coltre bianca che sta facendo letteralmente collassare le zone più alte della nostra provincia. Grazie